Elon Musk sta trasformando gli uffici di Twitter in un albergo letti, armadi, persino le lavatrici il nuovo CEO di Twitter sta facendo montare tutte queste cose per i suoi dipendenti ma perché? per non fargli perdere tempo tornando a casa, sai, vivendo la loro vita non appena assunto il controllo della società Musk ha messo i lavoratori davanti a una scelta lavorare sodo, hardcore o andarsene e a quanto pare lavorare sodo per lui vuol dire separarsi il minor tempo possibile dal posto di lavoro quindi lavatrici, letti, eccetera sono piazzati lì per agevolarli, in teoria trasformare gli uffici in una specie di ostello non sembra far piacere alle autorità locali dato che l'edificio è registrato come un luogo commerciale invece tu, come la prenderesti se ti mettessero un letto in ufficio?